Buongiorno, ben ritrovati, benvenuti a questo secondo appuntamento di diritto amministrativo quotidiano. Cosa intendo? Diciamo parlare di come siamo circondati dal diritto amministrativo anche camminando per strada come in questo caso. Allora, vediamo un po' che cosa vedo. Dietro di me, Guardia Costiera. Guardia Costiera è un'autorità addetta alla tutela delle coste italiane, è un soggetto pubblico, quindi rientra in quella parte del diritto amministrativo che noi definiamo l'organizzazione della pubblica amministrazione. In particolare, se leggo Guardia Costiera, penso al decentramento amministrativo, penso all'esercizio statal di funzioni, una funzione statale, che il Ministero dei Trasporti o anche della Difesa, diciamo, sono funzioni congiunte, esercita a livello locale attraverso queste strutture organizzative dotate di autonomia che appunto sono le Guardia Costiera. Venivo ora in fondo al viale, mi trovo a Castellamare di Stabia, in fondo al viale c'è Fincantieri. Fincantieri è una società per azioni, partecipata, ora non conosco il regime di partecipazione, non so se ancora integralmente o parzialmente dallo Stato. Sono società per azioni che derivano da un sistema di costituzione di soggetti privati che operano in settori industriali, strategici ovviamente per la nazione, costruzione di navi, costruzioni di navi da guerra, costruzioni di imbarcazioni significative, nelle quali lo Stato è entrato negli anni o per costituirle, quindi per farle nascere, perché non esisteva un mercato privato, o per rilevare quote in caso di fallimenti o problematiche. È un tema ricorrente, oggi meno diffuso che non 40 anni fa, quando la partecipazione dello Stato nelle aziende era più significativa. Dopodiché, nell'epoca Bassanini, abbiamo avuto un progressivo percorso di privatizzazione. Privatizzazione si intende la cessione delle quote di queste società, Fincantieri, Larai, piuttosto che altre aziende, a privati, perché lo Stato tornasse a fare il regolatore e non il gestore in via diretta. Si parlava a quel tempo dell'intervento diretto e indiretto nell'economia dello Stato, intendendo per intervento diretto nell'economia dello Stato, quello svolto attraverso le partecipazioni statali, e quello indiretto quello attraverso la regolazione, con le leggi, con le norme. Esistito per molti anni anche un ministero che si chiamava Ministero per le partecipazioni statali, un ministero che aveva il compito di gestire tutti i soggetti che operano partecipati dallo Stato. Questo percorso di privatizzazione è partito a livello statale, appunto con la cessione di quote ai privati, la restituzione di quote ai privati, si è sviluppato anche a livello di enti locali. Il livello di enti locali è stato più lento, tant'è che oggi noi abbiamo un testo unico sulle partecipazioni che riguarda tutto il settore pubblico, in particolare gli enti locali che va verso la dismissione di questi soggetti. Bene, allora sono su un viale, non so se notate, vi faccio notare meglio, intanto qui probabilmente un ex, sono tutte strutture in parte dismesse, in parte riutilizzate, probabilmente sono beni del patrimonio disponibile dello Stato, che nel corso degli anni sono stati dati in locazione a privati oppure ceduti a privati, quindi è un'occasione per ripassare la distinzione fra beni demaniali, beni del patrimonio disponibile, beni del patrimonio indisponibile, alcuni di questi sono beni demaniali, sono proprio lungo la costa. Guardiamo un po' qui che cosa c'è, circolo nautico, ecco circolo nautico piuttosto che stabilimento balneare, i beni del patrimonio indisponibile o i beni demaniali possono essere dati dallo Stato in concessione, non possono essere ceduti, il classico caso sono le spiagge lungo le coste toscane, ma anche il circolo nautico piuttosto che altre strutture, concessioni pluriennali che un tempo venivano date intuito persone, diciamo sulla base di assegnazioni individuali non sempre precedute da bandi, invece che negli ultimi anni sono oggetto di una forte polemica e rivisitazione legislativa, la famosa Bolkestein e l'applicazione anche al settore demaniale e delle repubbliche della disciplina sulla libera concorrenza. Non so se avete sentito dire appunto delle spiagge, della scadenza delle concessioni delle spiagge e della impossibilità del rinnovo automatico su cui c'è una forte diatriba fra la Commissione Europea e l'Italia. E qui abbiamo diverse aree, parte questa qui, eccola qui, in concessione a fincantieri piuttosto che al circolo velico, piuttosto che altre strutture, mentre dietro di me vedete le attrezzature dello spettacolo viaggiante. Lo spettacolo viaggiante, i circhi, ma anche appunto le giostrine, sono attività economiche soggette a un regime giuridico particolare. Una legge del 1968 prevede norme di favore per i circhi e le attrezzature dello spettacolo viaggiante, in generale il pubblico spettacolo itinerante, e prevede che i comuni rilascino queste concessioni di suolo pubblico a queste strutture, diciamo in deroga a varie disposizioni, fra cui una che è ancora rimasta attuale è quella la deroga al principio del bando pubblico, è proprio sprevisto espressamente dalla legge che non si debba procedere con assegnazione mediante asta o bando pubblico. Ora c'è molta differenza tra il circo e un'attrezzatura di questo genere, questo qui sono tre o quattro attrezzature sul suolo pubblico che per poter installare devono fare domande ad occupazione di suolo pubblico e le loro attrezzature sono soggette ad un regime di controllo particolare introdotto da una decina d'anni a questa parte, un decreto ministeriale che stabilisce il rilascio di un codice univoco. Perché? Perché erano emerse diverse irregolarità nella gestione di queste attrezzature non conformi, non in regola, con incidenti anche mortali a me purtroppo? Allora il legislatore ha voluto dare una stretta e introdurre regimi amministrativi di controllo che sono in primo luogo la licenza dell'operatore, quindi chi fa quell'attività deve avere una licenza di pubblico spettacolo. In secondo luogo le singole attrezzature devono essere controllate, omologate, quindi avere un codice a seguito di un controllo sulla regolarità amministrativa e soprattutto tecnica, con un cosiddetto logbook, libro che descriva le caratteristiche tecniche, è un tecnico che asseveri il rispetto delle norme di sicurezza e in caso di cessione sono oggetto di specifici atti amministrativi, un po' come le targhe dei veicoli, la stessa finalità delle targhe degli autoveicoli. Quindi anche questo, vedete, passeggiando se trovate delle giostrine, dei gonfiabili o altro, sappiate si tratta di diritto amministrativo, attrezzature dello spettacolo viaggiante. Allora, altre cose, mentre venivo qua una strada molto ricca di insegne di esercizio o insegne pubblicitarie, le città sono piene di questi cartelli, anche da questo punto di vista noi abbiamo dietro questi cartelli molto diritto amministrativi. Perché? Perché il codice della strada da un lato e la disciplina comunale dall'altro prevedono che i mezzi pubblicitari visibili dalle strade, e normalmente ovviamente le pubblicità sono fatte per essere visibili dalla viabilità, sono soggette a un regime di autorizzazione che però è diversificato, cambia a seconda che si faccia riferimento alle insegne di esercizio, cioè le insegne che si mettono sul bar, sul ristorante, sull'albergo, quelle che indicano l'attività all'interno di quell'immobile, che noi chiamiamo insegne di esercizio, dai mezzi pubblicitari lungo la strada. Il cartello che indica fra 500 metri c'è il McDonald's, fra un chilometro trovi il centro commerciale. Perché? Perché mentre le insegne di esercizio sono pressoché liberalizzate, cioè non c'è un contingente numerico, non c'è un vincolo, perché ovvio io metto l'insegne di esercizio per pubblicizzare il mio locale, non il locale di quello accanto. Mentre le insegne, i mezzi pubblicitari lungo la strada, sono oggetto di un obbligo di regolamentazione da parte dei comuni. I comuni devono adottare un piano per le insegne e rilasciare l'autorizzazione entro un limite numerico, un contingente, per evitare il sovraffollamento della pubblicità lungo le strade che contrasta con il decoro urbano e che potrebbe essere anche fuorviante per l'automobilista, che ovviamente come mezzo di riferimento principale visivo e informativo deve avere i segnali del codice della strada. Quindi esiste l'obbligo di un piano e di un regolamento per l'autorizzazione ai mezzi pubblicitari lungo le strade, ahimè molti comuni ne sono privi e vanno ad occhio, e invece per le insegne di esercizio, non essendo contingentate, la maggior parte dei comuni applica la scia, quindi un'autocertificazione dove si attesta il rispetto delle norme di sicurezza e del codice della strada, ad esempio i mezzi pubblicitari non devono riprodurre i cartelli stradali, non devono avere colore rosso e verde acceso per non confondere l'automobilista che può scambiarli per un semaforo. Per il resto invece ci sono norme tecniche che il Comune può adottare, ad esempio devono essere nello sport, devono essere a lettere singole scatolari, non devono essere retroilluminate, eccetera, che possono variare anche a seconda del contesto urbano. Se andate nella Galleria di Milano troverete tutte le insegne con sfondo nero e caratteri dorati, lì c'è un regolamento ad hoc a tutela del Centro Storico di Milano ovviamente che impone quei limiti. Per i mezzi pubblicitari c'è poi anche il pagamento di una tassa, una tassa per la pubblicità e in alcuni casi una tassa per l'occupazione del suolo pubblico, perché ovviamente la parte che occupo per mettere il mezzo devo pagare il suolo pubblico. La legge di bilancio 2020 ha introdotto una novità, dal 2021 la tassa di occupazione del suolo pubblico e la tassa di pubblicità saranno soppresse ed è costituita un'unica tassa che ingloba tutte e due. Probabilmente sostanzialmente non cambia niente, cambia il nome, però viene unificata la tassa in un unico tributo. Allora, guardiamo un'altra cosa, vabbè ovviamente tutto quello che vediamo, gli edifici sono oggetto di procedure amministrative sia per la loro edificazione, quindi se io voglio costruire una casa, un appartamento, un qualunque cosa devo avere un permesso di costruire, una scia, una cilla, una cilla, i vari titoli edilizi per realizzare qualunque opera sul territorio a carattere stabile o non stabile. Poi qui siamo in un parco, vedete lo sfondo, pensavo il Vesuvio è quello sotto quella nebbia, è il Vesuvio. Dopodiché siamo in zona probabilmente a vincolo paesaggistico e quindi per poter realizzare un qualunque cosa occorre il parere a barra autorizzazione della sovrintendenza. Il legislatore italiano ha introdotto relativamente alla tutela di particolari immobili, quindi immobili o comunque interventi che hanno rilievo paesaggistico, immobili di carattere storico, pensate a un edificio, poi magari vi faccio vedere il palazzo comunale o l'edificio dell'inizio dell'Ottocento, ha previsto dei vincoli, quindi o intere aree o singoli immobili laddove vincolati, quindi oggetto di questo regime, non possono realizzare gli interventi come io potrei ristrutturare casa in campagna, ma hanno bisogno di un procedimento aggiuntivo rispetto a quello di natura edilizia. Bene, poi qui vedete c'è un piccolo parco pubblico, non è nemmeno piccolo, è una bella piazza, stanno ristrutturando, quel verde, quei diabeti, quei pini, probabilmente anche questi sono oggetto di vincolo, in ogni caso sono verde pubblico. Cosa vuol dire essere verde pubblico? Vuol dire che la loro manutenzione spetta alle amministrazioni comunali, quindi le amministrazioni comunali devono decidere se gestiscono in via diretta, quindi tramite operai del comune, cosa sempre più rara, soprattutto nei comuni medio-grandi, diciamo qualche operaio c'è, ma non in grado di gestire tutto il verde pubblico, oppure fare un appalto di servizi. Quindi troverete negli atti del comune l'appalto di servizi per la manutenzione del verde pubblico che è fatto da ditte esterne che normalmente hanno un obbligo di sfalcio, potatura annuale, una, due, tre, quattro, cinque volte l'anno, e poi un obbligo di intervento per tot ore, quindi il comune fa un contratto aperto per singole prestazioni e per la disponibilità di intervento nel caso in cui appunto una ventata fa crollare un albero, allora chiami la ditta per fare l'intervento sulla base di questo contratto di manutenzione aperto. Adesso torno al parco, guardiamo un po' se vediamo altre cose interessanti dal punto di vista amministrativo, sì, ne ho vista una, eccola qua, questo che agli occhi di molti può sembrare un cestino per la raccolta differenziata è invece frutto di una concessione di servizi, i servizi di raccolta. Le amministrazioni locali devono garantire la raccolta dei rifiuti urbani direttamente o tramite appalto di servizi, quindi alla ditta, una ditta esterna individuata in base al codice dei contratti per la gestione del servizio di raccolta e conferimento di rifiuti, oppure se tramite società partecipate, ritorniamo alle partecipate, società partecipate in house che hanno fra i vari compiti quello della gestione appunto del servizio di raccolta di rifiuti e quindi il cittadino li conferisce, speriamo, sempre più in modo differenziato e la ditta li raccoglie e li conferisce in discarica per conto dell'ente sulla base di un corrispettivo o sulla base, qualora sia una partecipata, della quota di partecipazione alla società stessa. Bene, vediamo un po' chi abbiamo qui, non so se lo riconoscete, penso di no, non è famosissimo, Luigi Densa, questa probabilmente è piazza Luigi Densa o questo angolo, l'angolo Luigi Densa, anche in questo caso abbiamo un alternativo, non tanto perché lo ha fatto Luigi Densa che penso sia un compositore o uno che suona, ma per il fatto la denominazione, la toponomastica, cioè l'attribuzione di nomi ai luoghi, dal greco topos onomos, quindi l'attribuzione di nomi ai luoghi è di competenza del Consiglio Comunale, l'attribuzione di vie, di piazze e quant'altro. Ogni tanto, dal legislatore al Consiglio Comunale, perché al Consiglio Comunale? Perché la scelta di individuare una via, di attribuire il nome a un luogo è una scelta importante, fondamentale, può caratterizzare una città e allora deve essere l'organo rappresentativo dell'intera collettività, della maggioranza e dell'opposizione, quindi non è una questione di maggioranza e vincenti, ovviamente in Consiglio poi c'è una maggioranza, ma non è da giunta né da sindaco e quindi la toponomastica tradizionalmente è una delle competenze proprie del Consiglio Comunale. Io direi che ci siamo, a questo punto il Vesuvio è risultato visibile, fra l'altro innevato, quindi è venuta la neve stanotte con il calo delle temperature, bene, io vi saluto e ci vediamo alla prossima, bene, ciao ciao!